In Turchia e ancora in primo piano il tema dei diritti umani sono stati condannati all'ergassolo rafforzato alcuni dei giornalisti più noti per attentato all'ordine costituzionale. Allora dai Stamuli in servizio della corrispondente Lucia Goracci. Possono anche mettere in carcere uno scrittore, mi ha detto una volta mio padre, ma lui ha il potere magico di varcare i muri. Ogni paio d'occhi che leggono i suoi libri in qualunque parte del mondo lo portano lì, fuori dal carcere, libero. Sanem Altan ci descriveva così il padre scrittore Ahmet, seduta sulla poltrona dell'uomo accanto ai libri che stava leggendo quando nel settembre di due anni fa fu arrestato. Un tribunale di Istanbul ha confermato per lui e per il fratello Mehmet, noto economista, l'ergassolo, insieme con la più famosa commentatrice televisiva in Turchia, Nasle Lecak. L'accusa è di quelle che pesano come macigni attentato all'ordine costituzionale. E' bastato che partecipassero a una trasmissione dove il rischio di un colpo di stato militare veniva evocato poche ore prima che i golpisti colpissero davvero nell'estate del 2016 per essere condannati per favoreggiamento. Carcere a vita, aggravato dall'isolamento, una sorta di 41 bis alla turca. In vano i giornalisti hanno difeso in tribunale la loro innocenza. Ahmed Altan fu pure rilasciato ma solo per alcune ore. Mehmet, suo fratello, è l'unico fuori dal carcere per volere di una sentenza della Corte Costituzionale a lungo sconfessata peraltro da giudici di grado inferiore. Vane le campagne in difesa di nomi che sono diventati simbolo della stampa sotto attacco in Turchia. Quei libri, su quel comodino, devono ancora aspettare. I genitori